Quest'anno l'abbonamento Torino Musei 2012 varca i confini del Piemonte e si apre all'Italia e permette di visitare musei, residenze reali, castelli, giardini e fortezze garantendo l'accesso libero e limitato alle collezioni permanenti, alle mostre temporanee con sconti e agevolazioni. Cominciamo con il Maxi a Roma, il Museo delle Arti del XXI secolo e con il circuito dei Musei Civici di Roma, il Museum Pass di Venezia, i Musei Civici di Brescia, alcune mostre a Roma e a Forlì, ma continueremo a comunicare periodicamente tutte le attività che gli abbonati potranno frequentare a prezzo agevolato nel resto del territorio. La nostra idea è, abbiamo celebrato l'Italia in Piemonte nel 2011, adesso andiamo a visitarla. Dal primo dicembre è in vendita al nuovo abbonamento Musei 2012 per accedere tutto l'anno, quante volte si desidera, ai musei e agli eventi espositivi. L'abbonamento Musei Torino-Piemonte costa come l'altro anno, 49 euro intero, 30 ridotto per i giovani fino ai 26 anni e le persone oltre i 65. Cosa ferma la voglia di cultura è l'assenza di cultura.